Tante novità per l'AS, anzitutto credete una squadra femminile? Sì, abbiamo ricreato una squadra femminile grazie all'entrata con noi di Fabrizio Nunzi ci ha detto se avevamo intenzione di fare calcio a 5 femminile e noi abbiamo preso subito in mano l'occasione Ci saranno molte ragazze che sono state già allenate da Fabrizio Nunzi sia con la Tiriena che con l'Atletico? Sì, penso che le giocatrici alla fine Fabrizio le conosce tutte sicuramente la maggior parte l'avrà tutte con lui Quale invece è la situazione per quanto riguarda la squadra maschile, soprattutto al mercato? La squadra maschile va bene, sono usciti, c'è rotta e frusciante ovviamente non c'è bisogno che dico che giocatori che siano, sono grandi giocatori ovviamente sarà dura, partiremo con tanti giovani e sono fiducioso perché abbiamo veramente giovani interessanti che secondo me in futuro faranno la fortuna dell'ES Comunque penso di fare un campionato ovviamente per salvarci, speriamo di salvarci prima dei play-out perché quest'anno sono tornate le tre retrocessioni, una diretta e poi quattro vanno a fare gli spareggi play-out come facemmo noi due anni fa con l'Atletico Si parla di una rimaniera azzurro di Ivan Franchi e di Luca Bellumori, è vero? Sì, sono ufficiali Ivan Franchi e Bellumori e Luca Sannino è rimasto, Michele è l'unico diciamo di quelli grandi che è rimasto con noi sono convinto che con la sua esperienza c'è tra sempre una grossa mano anche perché caratterialmente uno che ti carica tanto ti carica proprio a palla speriamo che vada tutto bene, ovviamente sarà il campo a dare il giudizio finale Grazie